Allora, dodicesima edizione, intanto il tema della Mediterraneità. Sì, infatti la dodicesima edizione, quest'anno la Fiera del Libro, anche in questi dodici anni, ha avuto modo di farsi notare e apprezzare a livello nazionale e internazionale, proprio anche per la peculiarità e l'attualità dei suoi temi. Quest'anno il tema giocherà sul rimando linguistico mare e amare. La Mediterraneità sarà ancora una volta portata al centro del dibattito durante la Fiera e considerata come spazio accogliente per l'esistenza. E oltre al tema, naturalmente, importanti sono anche gli ospiti, che quest'anno sono veramente ospiti d'eccezione. Ne potrei citare alcuni, come Beppe Bigazzi, personaggio televisivo, come Achille Serre, l'ex prefetto, che presenterà un libro sulla legalità, Lorenzo Amurri, Lorenzo Beccati, voce narrante del Gabibbo, in striscia alla notizia, e poi avremo Carlo Freccero, direttore della RAI, di RAI 4. Quindi, come ultimo, posso ancora citare Stefano Dorazio, ex batterista dei PU. Quindi abbiamo veramente dei personaggi importanti. Come importanti sono stati anche quelli delle passate edizioni. Dalla segreteria, appunto, mi sono giunti dei dati. Abbiamo circa avuto mille presentazioni letterarie, di cui il 20% con personaggi di chiara fama nazionale e internazionale. Quindi la fiera, devo dire, è cresciuta e a noi, come organizzatori, sta dando molte soddisfazioni. Case editrici da tutta Italia? Case editrici da tutta Italia, anche quest'anno, sia dal nord-ovest che dal nord-est, dal meridione, molte presentano anche loro le loro novità editoriali, e quindi sarà una carrellata di moltissimi incontri letterari e caffè letterari. E poi la particolarità che vede, fianco a fianco, personaggi famosi con scrittori in fase di lancio. Esattamente, beh, è questo che è importante, è questo che crea stimolo anche a chi sta cominciando, appunto, a scrivere, e anche per le case editrici che sono presenti, è anche uno stimolo essere affiancati a personaggi di livello nazionale e internazionale. Ed è questa un po' la chiave vincente della fiera, che è comunque cresciuta, anche grazie a personaggi che non ci sono più, come Nicorengo, Anacleto Verrecchia, e comunque ha avuto sostegno anche dalle istituzioni e tuttora, anche se comunque stanno mancando i fondi, come tutti sanno, però stiamo cercando noi, come organizzatori, di mantenere le posizioni e di difendere la manifestazione, soprattutto per Porto Maurizio, che anche se è una città al collasso, comunque in quei giorni respira un'aria diversa e ci fa auspicare per un futuro migliore anche per la città. Si parlerà anche di cibo e cultura, anche quella? Ovviamente sì, cibo, ci sarà l'Oasi del Gusto e Beppe Bigazzi, infatti, sarà un po' il patron della sezione, di questa sezione qua. Ci sarà anche Caterina Mosca, titolare di un ristorante famosissimo vegetariano di Milano e presenterà la cucina del Grande Cerchio, dove sarà anche Bigazzi presente. L'Oasi del Gusto è da anni curata dal noto enogastronomo Giuliano Ferrari e presenta sempre delle novità editoriali proprio di settore, seguite poi a degustazioni. Spazio anche ai bimbi? Spazio anche ai bimbi, è vero, bisogna assolutamente ricordarlo. Venerdì aspettiamo tutti, mamme e bambini, per l'incontro con Geronimo Stilton. Ci sarà il personaggio proprio più famoso d'Italia, si può dire, per i ragazzi, in baffi e pelliccia. Sarà qui ad Imperia, davanti al Teatro Cavour alle ore 17, per uno spettacolo. E poi si trasferirà in Via 20 Settembre per firmare le copie di tutti i ragazzi che porteranno il libro di Geronimo Stilton e avranno piacere della firma proprio dell'autore. Presente anche Union Camere che torna alla fiera del libro. Esattamente, proprio così. Anche quest'anno la nostra presenza sarà rinnovata. Già l'anno scorso abbiamo voluto dare un contributo a questo evento che reputiamo di molto interesse e di molta importanza sia per il valore culturale che ha, sia per il valore anche di, diciamo, il ruolo che ha sul territorio, quindi sull'imperiese. E appunto, se l'anno scorso siamo stati presenti con uno stand che ha focalizzato l'attenzione su una pubblicazione in particolare, una pubblicazione che riguardava il mondo della pesca, quindi comunque il mondo del mare, che sempre nel nostro territorio ha un ruolo, appunto, un ruolo di primo piano. Ecco, quest'anno vogliamo che l'iniziativa abbia la massima visibilità possibile e quindi possa essere conosciuta dalla popolazione, già lo è sicuramente, e questo appunto vuole essere il nostro piccolo contributo. Una grande sensibilità alla cultura da parte vostra? Alla cultura, senz'altro cultura che comunque riguarda, cultura è territorio, cultura è tutto per una realtà come la nostra, perché dalla cultura vengono le nostre origini, la cultura ci insegna, dal passato possiamo trarre insegnamento e in qualche modo anche l'economia e i settori economici dalla cultura traggono origine, beneficio. Penso a settori produttivi, economici, residuali come può essere magari la pesca o certi tipi di pesca e che fanno del loro retroterra culturale appunto motivo di importanza, di sviluppo.